Quando si dice inventarsele tutte, che la crisi stesse attanaiando i commercianti, non c'era alcun dubbio, ma la situazione più grave riguarda i centri urbani, quelli, per intenderci, dove è più scomodo muoversi a causa di scarsità di parcheggi, rischio multe e difficoltà di spostamenti. I commercianti del centro storico di Chieti erano già scesi in piazza nei mesi scorsi per gridare il loro sconforto e l'indignazione. Avevano simbolicamente consegnato le chiavi dei loro negozi. Oggi, a due giorni dai saldi estivi, arriva l'iniziativa messa in campo da Comune e Camera di Commercio che stilano un protocollo e comunicano ai cittadini. Ogni sabato, a partire dal 6 luglio, dalle 15 alle 20, la sosta sarà gratis nelle principali aree di parcheggio di Chieti. Per favorire lo shopping e aiutare l'economia cittadina. Sarà possibile dunque sostare senza paura di multe corse contro il tempo in tre punti centrali della città. Piazza San Giustino è la prima. A seguire il corso principale dello shopping, Corso Marrocino e infine Piazza Garibaldi. Nessun ticket a pagamento nelle ore pomeridiane. Un accordo che fa tirare un sospiro di sollievo a Comfcommercio che proprio nei giorni scorsi aveva proposto la gratuità delle strisce blu per tutto il periodo dei saldi. Il Comune non ha fatto attendere la sua risposta ed ora resta solo da vedere se l'iniziativa vedrà aumentare l'afflusso dei potenziali acquirenti nonostante la crisi.